Amici sportivi, appassionati di futsal, ben ritrovati al Pallabianchini di Latina, siamo per assistere alla seconda semifinale della Coppa di Lega amatori di calcio a 5 e sono di fronte dunque alle nostre telecamere la formazione del Città di Anzio in maglia bianca e l'Accademia Sport in maglia arancione. Le due squadre hanno già disputato un match questa mattinata, lo hanno vinto naturalmente, si trattava di quarti di finale, dunque il Città di Anzio che prova a costruire la prima azione di questa partita sulla base di 25 minuti per frazione. Adesso c'è Fornito con il pallone che subito arriva tra i piedi del numero 7, proprio lui il giocatore Alessandro Fornito che ha provato da distanza ravvicinata e il pallone che termina in fallo laterale. che viene battuto adesso dalla formazione in maglia arancione, attenzione a quest'azione, arriva il gol, il vantaggio da parte dell'Accademia Sport con Palombo che dunque va a bersaglio al primo bussar di Nocchie, la porta del Città di Anzio cade giù con tutto lo stipide, è già avanti l'Accademia Sport dopo un minuto di gioco. Ancora Soldà, arriva un timido accenno di pressione, splendida intanto l'imbucata per il calciatore con la maglia numero 9, doppio tentativo da parte di Palombo. Il palo nega la genera del gol al calciatore dell'Accademia, davvero molto pericolosa anche in questa circostanza. C'è ancora Ceccarelli, il tiro di punta che viene neutralizzato bene dal portiere San Marco da parte di Felicini per Palombo. Ancora un bel pallone recapitato a Marino e poi arriva il gol del 2-0, lo scarico di Marino per Righetti che tutto solo non può far altro che mettere il pallone in rete, non siamo molto lontani. E infatti ci prova e arriva con il colpo di tacco elegante, intelligente. Gaetano Marino a timbrare il 3-0. 3-0, dunque subito però la reazione immediata da parte del Città di Anzio che riapre parzialmente il match trovando con Felicini la rete del 3-1, non ce ne siamo neanche accorti. Nulla di fatto però, il pallone che perviene tra le braccia del portiere Terenzi. Ancora una sventagliata sulla sinistra e la rete ancora una volta da parte dell'encomiabile Felicini che si fa trovare pronto, reattivo sul secondo palo e poi in buca benissimo sul lato opposto. 3-2, partita totalmente riaperta. Alla retroguardia dell'Accademia che adesso prova a riaffacciarsi in avanti. Il taglio in orizzontale, perfetto. Deviazione in fallo laterale per l'ultimo tocco di Soldà. Ancora con il sinistro! Mamma mia che gol! da parte di uno scatenato Felicini che quando parte non viene praticamente mai preso dall'Accademia ancora una volta la sta affilata sul secondo palo precisa come un orologio svizzero. Qui non guarda assolutamente dove fosse posizionato il proprio compagno il giocatore in maglia bianca. E poi c'è il tiro che termina in rete. C'è stata una deviazione sulla conclusione da parte di Palombo tra le proteste plateali da parte del staff del cittadino Anzio che evidentemente voleva la rimessa in proprio favore. Fatto sta che è arrivato il poker dell'Accademia Sport che si riporta avanti nel punteggio 4-3. Ancora fornito con il destro e poi il colpo di tacco e il gol del pareggio. Ancora con il tacco. Questa volta è stato fascione a mettere l'ultima parola su quest'azione davvero costruita in maniera ineccepibile, impeccabile. Cittadino Anzio che dunque pareggia per la seconda volta all'incontro. 4-4 dunque risultato adesso. Nuovo vantaggio dell'Accademia in nuova parità. 4 pari. Ancora il sinistro da parte del calciatore con la maglia numero 3 Felicini. Soldà intanto all'indietro cede il pallone verso Palombo che ha provato con il destro. Stanno cercando di prestare una maggiore attenzione alla fase difensiva rispetto a quanto invece è successo nella prima frazione. Felicini ancora impegna per due volte il portiere dell'Accademia San Marco. Gaetano Marino che però non arriva alla conclusione. Già dall'altra parte Bardi che cede la sfera. Felicini di prima ha una serie di tocchi ravvicinati e poi con grande intuizione San Marco capisce tutto. Dunque si riprende con Cittadino Anzio sempre nella zona offensiva. Felicini con il sinistro. Ancora una volta. Con grande precisione. Grande scelta di tempo. Uno spettacolare gol. L'ennesimo da parte di un giocatore dominante di un'ottava superiore al livello di questa partita. 5-4. Fascione sbaglia però Fascione perde questo pallone e poi rimedia il portiere Terenzi su questa conclusione da parte di Marino. Protesta in maniera piuttosto vibrata. Caccia di punizione. Già battuto. Attenzione a questo pallone che filtra. Occasione importante capitata sui piedi di Soldà. Prova questa circolazione perimetrale. San Marco Soldà fa girare bene il pallone e poi la conclusione dal centro del campo da parte di Soldà e la risposta in calcio d'angolo del portiere Terenzi. Palombo. Righetti. Ancora Gaetano Marino. Poi c'è Palombo che prova a calciare in porta con il destro. E c'è stata la respinta di un attento e concentrato Terenzi. È pronto Soldà. Calcia Soldà. Non trova la porta. Il pallone termina sul fondo. Non c'è stata precisione qui di Soldà. Potrà costare molto cara. Alla formazione del... Attenzione. Intanto a questo tentativo sul palo. C'è stata anche la deviazione. Tiro da parte di Fascione. Deviazione. L'Accademia Sport adesso riconquista la sfera con il numero quattro che calcia. Si trattava di Palombo. Ancora un'occasione importante per l'Accademia che non va a bersaglio davvero per questione di centimetri. Guarda il cronometro adesso e fischia la fine di questo appassionante, vibrante, avvincente incontro che manda il Cittadiansio in finale grazie al successo in rimonta per cinque reti a quattro contro l'Accademia Sport che fino all'ultimo però ci ha provato con generosità ma alla fine non è riuscita però a ribaltare l'esito di questo match. Dunque fra qualche istante assisteremo alla finalissima tra Raw Team e Cittadiansio ed è tutto. Dunque per il momento un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi in voce.